Oggi per il Cryptonomist ho scritto questo articolo di cui vi metto il link in descrizione, in cui viene fatta notare una cosa molto interessante, ovvero che l'RSI a due settimane è ancora molto basso. Che cos'è l'RSI? Il Relative Strength Index, cioè l'indice di forza relativa, è un indice che si calcola sul prezzo di un asset e che serve per capire se quest'asset è ipercomprato o ipervenduto. Se è superiore a 70 si dice che l'asset è ipercomprato, se è inferiore a 30 si dice che è ipervenduto. Ora prendiamo il grafico del prezzo di Bitcoin e andiamo a scegliere come timing un giorno. Questo è il grafico giornaliero, magari zoomiamo solo sugli ultimi mesi. E poi ci aggiungiamo, per l'appunto, il RSI Relative Strength Index. E vediamo che sul giornaliero, dal 15 di ottobre, il prezzo sarebbe in zona ipercomprato, ovvero superiore a 70. Però attenzione perché l'analisi delle performance del prezzo di Bitcoin giorno per giorno, cioè sul singolo giorno, in realtà interessa solamente a chi fa trading intraday, cioè chi fa speculazione sul brevissimo o breve periodo. Per tutti coloro invece che investono sul medio-lungo periodo, sarebbe meglio analizzare non le variazioni singole giornaliere, ma ad esempio quelle mensili o settimanali. Ora, il mese di ottobre non è ancora concluso, quindi non ha senso prendere il mensile. Prendiamo il settimanale. Sul settimanale vediamo che, in quest'ultimo periodo, l'indice RSI non ha ancora raggiunto quota 70, e fermo a quota circa 66-67, cioè sotto la soglia di ipercomprato. E vi dirò di più, come scrivo nel mio articolo per il Cryptonomist, in realtà, solitamente, quando il prezzo di Bitcoin si trova veramente al culmine di una bull run, questo indice arriva a quote di 93-94. Siamo ancora molto distanti da quello che potrebbe essere il livello massimo. Ad esempio, il 4 gennaio, in quella settimana lì, si era 94. E in effetti, come vedete, alla fine di gennaio ci furono delle settimane con un calo. Poi, a dire il vero, quando nella settimana di metà aprile, quando venne raggiunto il massimo storico di sempre, sempre l'RSI di quella settimana era basso, ma perché il picco abbenne a metà settimana, e poi a fine settimana ci fu un calo, tant'è che questa candela è rossa. La candela precedente, quella della settimana del 5 aprile, l'indice RSI era a 72, ma stava attraversando, per l'appunto, una fase di calo. Adesso, invece, siamo in una fase crescente. Il punto è questo. In questo momento ci sono diversi indicatori che fanno presumere che il prezzo di Bitcoin abbia ancora ampie potenzialità di crescita sul meglio breve periodo, cioè nelle prossime settimane. Però, attenzione, in questo momento molte persone, molti investitori, molti speculatori, molti analisti sono convinti che il prezzo di Bitcoin possa salire e questo potrebbe creare un eccesso di certezza, un eccesso di confidenza e i mercati, a volte, in questi casi, stupiscono facendo l'esatto contrario di quello che tutti si aspettano. Io però voglio farvi notare un altro dato interessante che è l'indice della paura e dell'entusiasmo che è 75 in questo momento, ovvero un livello alto, ma non altissimo. Se noi andiamo a prendere l'ultimo anno, vediamo che i livelli attuali sono simili a quelli di inizio settembre o di più o meno fine agosto, non sono simili a quelli di febbraio o dicembre dell'anno scorso. Addirittura l'anno scorso, già al 7 novembre, eravamo a 88 di entusiasmo, 100 è il massimo, e poi rimase su questi livelli praticamente fino al 10 di gennaio. Cioè, se da un lato sono in molti a credere che il prezzo di Bitcoin possa ancora crescere da qui alle prossime settimane, dall'altro non c'è ancora quell'eccesso di entusiasmo che invece c'è quando il prezzo di Bitcoin va molto in alto, anzi magari troppo in alto. Quindi, in questa fase, forse il mercato, diciamo così, non è ancora pronto per stupire al ribasso i rialzisti, i torici, coloro che sono bullish. Ricordatevi che in questo video di otto giorni fa, di cui vi metto il link in descrizione, io avevo fatto una proiezione riguardo il prezzo di Bitcoin per questo ottobro 2021, utilizzando il trend di ottobro 2017, da cui era emerso che fino al 20 di ottobre, quindi fino a domani, il prezzo avrebbe potuto superare i 60.000 e oscillare in una cifra, in una banda di oscillazione compresa tra 60 e 64.000 dollari e dopo il 20 avrebbe potuto superare addirittura i 65.000 dollari facendo registrare il nuovo massimo assoluto. Quindi, in questa fase, siamo ancora più o meno con un trend simile a quello di ottobro 2017. Ora vedremo nei prossimi giorni, già domani o dopo domani, se il prezzo di Bitcoin inizierà a muoversi verso l'alto per un'altra volta, in modo simile a come fece nell'ottobre del 2017. Io ovviamente vi terrò aggiornati, soprattutto per vedere se questa replica del trend del 2017 continua ad andare avanti oppure no. Per ora, nei primi 20 giorni di ottobre è stato così, è importante sapere se veramente continuerà oppure no. Io non lo so cosa farà, semplicemente vi racconterò se starà continuando a seguire questo trend oppure no. E nel frattempo vi invito però ad iscrivermi anche al mio secondo canale YouTube, vi metto il link in descrizione, in cui parlo di mercati finanziari che non hanno a che fare con Bitcoin e criptovalute. Un saluto, ciao.